oh ma che è lui? lui chi è? lui chi è? cioè è difficile, parlo con te ora andiamo! lui chi è? lui cos'è? lui com'è? lui è distratto ma non certo di troppo troppo mi risultavo lo sai? la rabbia mi fa più normale quale eventualità trovarmi una con locazioni ora spiegami dai! ma te già mi tocchi con la botta e mentre io rischierei ehi, ehi, ehi mi rinnovare mi ho trattato mio brado e mai ...sallo...sallo... non è il mio tipo hei di paura